Certo che svegliarsi al mattino così non è proprio male. Oggi mi sa che faremo quello che non abbiamo fatto ieri, tempo meraviglioso, sole splendido, già caldo di prima mattina e mi sa che faremo oggi l'Etna che ieri non siamo riusciti a fare. Il giorno del giro di Sicilia e guardate che c'è qua, panorama splendido. Adesso da Taormina faremo quello che non siamo riusciti a fare ieri, cioè saliremo lì su, sull'Etna, mamma che mare splendido. E poi dal vulcano andremo in provincia di Ragusa, faremo Modica. Qui ci sarà un altro panorama brutto, brutto, brutto. Oggi giornata veramente splendida, ci sta ripagando per l'acqua presa ieri. Ho visto le previsioni, su in cima dovrebbero esserci 10 gradi. In cima intendo al Rifugio Sapienza. E qui siamo a Lingua Glossa, direzione Zafferana, Etnea. Questa è la linea della Circum Etnea, almeno credo. Eccolo lì su, i due. Adesso c'è la vegetazione e non si vede, ma io l'ho intravisto. Eccolo lì su. Mi sa che benzina la farò al ritorno, oppure al ritorno farò la discesa in folle. Bella, bella questa strada. Pulita, asfalto bello. Questo è il versante in salita che mi piace di più. Mancano 34 chilometri all'arrivo al Rifugio Sapienza. Ci sono 16 gradi e tra un po' mi sa che mi fermo a mettere il giubbotto. Attualmente indosso l'airbag della Dainese. Perché giù c'era una caldazza divertente. Questa strada è divertentissima. Adesso si sussegue una serpentina. Destra, sinistra, destra, sinistra. Curve belle, fattibili, non molto strette. Asfalto meraviglioso. Non sporco, niente brecciolino. E allora si va e si comincia a vedere un po' di cenere. Cominciano le collinette di lava. Carina questa stradella. Benzinaio, dove sei? Benzinaio, amico mio. Mi mancano 65 chilometri. Benzinaio, dove sei? Ci devi essere per forza. Benzinaio, amico mio. Stiamo seguendo le indicazioni per Etna Nord. Mancano 22 chilometri al rifugio. 16 gradi. Il giubbottino era d'obbligo. Manca perché è giù. E sarà molto più freddo. Qua siamo a Zafferana. Qua a un certo punto dovremmo cominciare a salire. Alla fine non stiamo salendo da Etna Nord, ma da Etna Sudesca. Presenza di sappia vulcanica sulla strada. E qui ne andremo piano. E poi c'è una bella serpentina. Scala Francesco che è lì in quarta, non andava bene. A meno 15 chilometri. A meno 15 chilometri. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.